Sì, perché conoscendoli sapevo che erano delle persone per bene. Mi ancora mi domando come è stato possibile che delle persone per bene abbiano governato per ben tre anni. Io sono stupito non del fatto che li hanno buttati giù due volte, ma del fatto che sono rimasti lì tre anni. È una cosa che per un paese marcio come il nostro è allucinante se ci pensate, è una cosa pazzesca. In tre anni hanno fatto rettici di adrenanza a legge spazzacorrotti, l'arreato di voto di scambio politico mafioso, il decreto dignità contro il precariato, hanno abolito gli spot per il gioco d'azzardo contro la ludopatia, hanno tolto i vitalizi, hanno tolto i vitalizi e i condannati, hanno tagliato il numero dei parlamentari, hanno vinto l'unico referendum costituzionale dal 2001 e hanno fatto il super bonus, hanno portato 209 miliardi. Io sono stupefatto che in quei tre anni siano riusciti a fare così tante cose e che siano riusciti a durare tre anni. Io mi ricordo quando Di Pietro faceva mani pulite e faceva tutto in fretta perché diceva prima o poi le acque del Mar Rosso si richiudono, solo che lì si richiusero dopo meno di due anni con l'arrivo di Berlusconi. Questi sono riusciti a durare addirittura tre anni, una cosa che per l'Italia veramente fa ben sperare perché vuol dire che la prossima volta forse se ricapita dura quattro anni. Mentre invece i tempi di reciprocenza dell'elettore coglione che ha sbagliato a votare si stanno restringendo. Perché per Berlusconi ci sono voluti 20 anni perché la gente capisse chi stava votando. Per Renzi tre, per Salvini due. Per Renzi tre, per Renzi tre, per Renzi tre,